Direttamente dal vecchio centro commerciale magico di San Cesareo, benvenuti ad un nuovo video. In questo nuovo video faremo un video dell'Happy Bar di San Cesareo, ovviamente è bar edicola. Qui troviamo l'insegna Happy Bar di Marco Miglio dal 1994. Allora, comunque adesso sono le 14.34 del 5 aprile e il bar ancora è chiuso. Comunque in ogni caso si possono intravedere dei bellissimi tavolini, un ombrello, due secchi dell'immondizia e un altro con il coso della Magnum. Poi qui ci sono altri tavolinetti. Poi in questo bar ci sono nato e cresciuto, quindi è un bar che consiglio assolutamente di andarlo a visitare, di andarci a fare colazione. Orari d'apertura aprono più o meno verso le 6 del mattino, poi verso l'ora di pranzo chiudono, per poi riaprire verso le 3.30, per poi chiudere intorno alle 7.30. Comunque l'ubicazione è Via Casilina numero 432 San Cesareo e Via Casilina numero 430 San Cesareo. Questo bar fa dei cornetti veramente squisiti, artigianali, attenzione, artigianali e non cornetti comprati. Comunque in ogni caso, come si può vedere qui, vi faccio vedere un po' l'interno, qui ci sta tipo il coso, il carrello con i vari giocattolini che ovviamente quando il luogo è aperto viene messo fuori. Qui si può intravedere sempre un po' di giocattolini, lì ci sono un bel po' di giornali, qui ci sono i vari fumetti tra cui Zagor, Tez, eccetera, ma anche i fumetti di Topolino. Poi ci sono pure dei giornali lì, poi qui ci stanno i secchi dell'immondizia automatici, lì ci stanno le caramelle e le gomme, lì ci sta il comparto tabacchi, poi lì ci sta una tazza gigante con i vari tipi di zucchero, i tovagliolini, l'igienizzatore per le mani, non si riesce tanto a vedere ma è lì. Poi, comunque in ogni caso, consiglio a tutti voi, se ci passate la mattina, di andarci a fare colazione, personale veramente al top. Comunque poi, se a voi fans vi capita di passare a San Cesario e andare a provare questo bar, scrivetemi su Instagram alla pagina andrafontizzaccagna444. Ah, e per di più, questo bar è uno dei pochi bar italiani che fa cornetti vegani, quindi di buono c'è che se uno non mangia roba derivante di animali oppure è intollerante al lattosio, questo posto fa il caso suo. Magari sarebbe pure opportuno rimediare magari un paio di cornetti senza glutine già imbustati, così almeno si dà pure la priorità ai celiaci e anzi sarebbe pure un pelì anche opportuno magari di comprare almeno, di che magari si abbia pure a disposizione in questo bar un, almeno una confezione di latte di soia, almeno mettiamo caso che vengano dei vegani o degli intolleranti al lattosio, almeno potranno gustare il cappuccino in santa pace. Che dire? Ah, qui servono pure il foodless, ottimo. E comunque qui con rapporto e qualità prezzo dei cornetti, rapporto qualità prezzo dei cornetti da una 10 direi proprio il top 10, ma anzi pure 100, pure 100. Che dire? E niente, ci vediamo alla prossima.